Faccia i nomi, Bouchet. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima? Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Bouchet! Non ci sono intoccabili. Non mi fraintendo, ma ho più paura dello Stato che della mafia. Onneto! Non sei stato! Onneto! Io sono stato, per il resto, un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Kosanowski. E questo, io non mi considero un pentito. Non mi si tratta di un uomo di amore. Non mi si tratta di un uomo di amore. Non mi si tratta di un uomo di amore. Grazie a tutti